Questa è la prima volta che ho avuto la sua prima domanda, magari si è una nuova, poi io ho un'altra macchina, adesso che mi hanno volato, e si sta vedendo la maria, questo è il pensiero di dire, io ho un po' di spolome, perché ho un po' di macchina, io ho un po' di macchina, quindi io ho un po' di macchina e io ho un po' di macchina, e io ho un po' di macchina, e io ho un po' di macchina, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.